prima di addentrarci nello studio della commedia vi farò un po di geografia o meglio di cosmologia il mio sistema cosmologico cioè la mia concezione dell'universo può essere definita tolemaica infatti per lo studioso greco tolomeo e soprattutto per aristotele la terra era una sfera perfetta immobile al centro dell'universo da questa visione dell'universo ho costruito il mio seguitemi in un'altra stanza ecco l'universo che troverete nella mia commedia sono partito dalla filosofia greca ma ho dovuto adattarlo alla visione cristiana quindi inserire un paradiso un purgatorio è un inferno ma dove per il paradiso è stato semplice il cielo l'empireo delle stelle che ruotano intorno alla terra l'inferno non può che collocarsi all'interno della terra il purgatorio invece lo è immaginato come una grande montagna al di là delle terre emerse al centro dell'oceano ma dopo il peccato di lucifero san michele ha cacciato l'angelo ribelle dal paradiso lucifero è stato scagliato sulla terra e la terra per i brezzo si è ritratta formando una voragine a forma di cono l'inferno la terra ritratta è emersa nell'emisfero australe formando la montagna del purgatorio sulla cui sommità c'è il paradiso terrestre vediamo l'inferno l'inferno è un grande cono rovesciato la cui fine corrisponde al centro della terra poi c'è un lunghissimo tunnel che porta sulla spiaggia della montagna al centro dell'oceano la selva e la porta dell'inferno si trovano nei pressi della città di gerusalemme l'inferno come accennavo prima è un immenso cono rovesciato diviso in nove cerchi prima dei nove cerchi si trova l'anti inferno dove sono punite le anime degli ignavi e vi anche un fiume la cheronte attraversato questo inizia il vero e proprio inferno ecco ora possiamo iniziare il nostro viaggio vi aspetto nella selva oscura grazie a tutti grazie a tutti